Non edizione dell'Aquila Film Festival all'insegna della cinematografia europea. Dall'8 al 18 dicembre l'Editorium del Parco apre le sue porte al cinema per una rassegna che quest'anno vede la collaborazione, oltre all'Associazione L'Idea di Cleves, ideatrice dell'evento, di Comune, Regione, ADSU, Ministero per i beni e le attività culturali, Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, ANAC, Barattelli e Scuola di Fumetto. Insieme tutti quanti facciamo un cartellone di dieci giorni. Noi facciamo cinema, che sarà il grosso del programma, poi ci saranno anche i concerti della Barattelli, ci saranno il coinvolgimento degli operatori culturali nelle giurie, ci sarà l'Ordine dei giornalisti che ci aiuta e è coinvolto nella festa del cinema e del giornalismo, c'è la Scuola dei Fumetti che farà una giornata per i ragazzi, ci sono tante cose. C'è la città che partecipa ed è per questo che è un palcoscenico così prolungato. L'8 dicembre si parte con un omaggio al Giubileo di Papa Francesco curato dalla Società Aquilana dei Concerti Barattelli, spazio anche al Festival dei Ragazzi e a momenti di approfondimento importanti, con il Festival del Cinema e del Giornalismo e il Ricordo del Genocidio degli Armeni. Fuori concorso l'omaggio a Pierpaolo Pasolini a 40 anni dalla scomparsa e l'incontro sul Cinema e Abruzzo che chiude il Festival. All'interno dicevamo due momenti utili per i giornalisti, per la formazione obbligatoria e il conseguimento dei crediti, il 10 e il 12 dicembre. La mattina del 10 abbiamo un corso, un seminario sul data journalism, cioè sulla possibilità che attraverso i dati della rete si possano trovare anche elementi utili per la nostra professione. Il pomeriggio invece analizzeremo il rapporto tra giornalismo e magistratura, lo faremo con dei colleghi di caratura nazionale che comunque sono impegnati con i loro mezzi di informazione a seguire attentamente queste questioni. Si tratta di Giuseppe Guastella del Corriere della Sera primo di Nicola del Fatto Quotidiano e lo faremo con il procuratore capo della Repubblica dell'Aquila, Cardella. Il 12 invece è un altro momento importante dedicato all'informazione, alla comunicazione più in generale, alla storia comunque contemporanea e riguarda il genocidio degli armeni. Il premio Il Forte d'Oro per questa edizione è stato realizzato dall'artista orafa Laura Caliendo che ha rappresentato con pietra locale e bronzo Il Forte Spagnolo.